buongiorno a tutti e ben ritrovati nell'angolo verde di angela quest'oggi parliamo della cedrina conosciuta anche come erba luigia o limoncina la cedrina è una specie molto diffusa originaria dall'america meridionale ama un clima mite va piantata in posizioni riparate o protetta in inverno questo arbusto coltivato essenzialmente per il suo gradevole profumo di limone che emanano le foglie se strofinate desidera un terreno fertile e ben drenato mantenuto fresco anche in estate con frequenti annaffiature si presta bene anche ad essere coltivato in vaso in primavera verso aprile si pota decisamente il cespo per aiutarlo a mantenere una forma più compatta e anche per eliminare i rami eventualmente rovinati dal gelo la cedrina si moltiplica in luglio prelevando tale semilegnose lunghe circa una decina di centimetri e interrate in vasetti misti di sabbia e torba e per finire vediamo un po' la cedrina che significa nel linguaggio dei fiori sta ad indicare il dolore e le pene amorose con questa pianta io vi saluto come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici per chi vuole può anche seguirmi su instagram non mi rimane a questo punto che salutarvi e come dico sempre alla fine ciao e una buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti